Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Spiegaci queste menzioni. Periodo 14-24 luni. Abbiamo scelto come finestra temporale l'inizio reale della crisi fino alla giornata di ieri. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccolto tutto ciò che è stato realizzato in rete utilizzando come keyword del parlato destra e sinistra. Sembrerà strano, in queste prime ore di campagna elettorale la agenda Draghi doveva essere un tema polarizzante, invece a destra e a sinistra le due categorie anche di differenziazione continuano a generare menzioni. Possiamo vedere l'evoluzione del grafico. Andiamo sul cartello successivo, engagement. Sì esattamente perché notiamo che cosa in questo caso. Notiamo che pur se ci sono state menzioni rispetto a quello di prima delle menzioni, quelle menzioni non hanno generato in rete una discussione da parte degli utenti. L'engagement ci dice appunto questo fatto. Ci dice che quando sale la curva, su quella keyword, su quella chiave di ricerca, quando si parla di destra, quando si parla di sinistra, gli utenti partecipano alle discussioni. E come vedete, negli ultimi giorni di questa finestra temporale a 14-24 è aumentata la polarizzazione sui temi di destra e di sinistra. Perché è evidente che la curva si impenna, trova dei picchi. Sì, poi mood, cartello successivo. Che vuol dire questo? Che vuol dire mood? È una cosa differente, non è assolutamente un sondaggio. Cosa significa? In questo caso la piattaforma cosa fa? La piattaforma di Blog Meter Love Insight va a dare un valore qualitativo, a differenza di quello che avevo visto prima, che era un valore quantitativo, alla discussione, cioè al modo in cui l'utente, o attraverso un like, o attraverso un commento, o attraverso una condivisione, si è relazionato con un contenuto che aveva al proprio interno la parola Conte, Meloni, Salvini, Letta, Berlusconi e Infine Renzi. Cosa vediamo in questo caso? Vediamo che il leader che in qualche modo ha o riscontra un atteggiamento positivo da parte degli utenti, ovvero dai cittadini, è sicuramente Giuseppe Conte con il 31% di sentiment positivo. al pari di Conte c'è la Meloni al 31%. Renzi che negli ultimi settimane sta crescendo rispetto invece ai mesi precedenti, perché il sentiment da parte dei cittadini che trovano in rete il contenuto, la keyword Renzi, sta aumentando. È interessante. La sua divisività di qualche mese fa invece si sta rientrando, quindi sta rientrando su una soglia fisiologica. Ma quel numero che è a destra... Sono le menzioni. Sono le menzioni. Quindi in realtà sembrano paragonabili, ma uno sta a un quarto delle menzioni dell'altro. Sì, però uno vale uno. Facciamolo rivedere. Uno vale uno, non me lo dica questo del mattino. No, 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 è la menzione. Allora, in questa finestra temporale, in questi dieci giorni... Rimettiamo il cartello, vi prego, non abbiamo fretta. Rimettiamo Mood. Lo possiamo rivedere? No, Mood, Mood. C'è saltato il Mood. Eccolo. È chiaro che sembra che la Conte ha avuto 16.000 menzioni. Quindi ha un numero di parlato, un volume di parlato molto più ampio rispetto a Renzi, che invece... E ha 4.000. Invece che vuol dire? In ogni caso il Mood è calcolato sul singolo commento positivo. Quindi la comparazione si può fare, non so se è chiaro questa cosa qui. No, perché non proprio. Nel senso, anche quando si fa un sondaggio, le risposte sono uno o uno, ognuno valgono... Sì, ho capito, ma 4.000 rispetto a 16.000 è un quarto dell'universo. Però, le dico di più. Ma non le dico, non so mica sostenendo che è vero e contrario. Le dico di più. Qual è la tendenza? Molto spesso, quando il volume delle menzioni è più alto, c'è una polarizzazione, è un dato negativo, però il dato negativo cresce rispetto al dato positivo. Mentre quando le menzioni sono più contenute, ovviamente la polarizzazione è molto più ristretta, molto più contenuta. Allora... Sì. No, prego, prego, Domenico. In questo caso qui... Il che dimostra per l'appunto che c'è una differenza. In questo caso qui, il 28% di Renzi, lo sottolineavo perché nelle ultime settimane aumentano sia le menzioni, quindi lui sta uscendo in qualche modo da una zona d'ombra, e aumenta anche lentamente il mood, quindi quell'atteggiamento divisivo... In questo caso il mood positivo, no? Mood positivo, esattamente. Poi, il cartello successivo, engagement, di nuovo, vediamola, è una torta. Esatto, è una torta. Eccolo. Che vuol dire questo? È quello che dicevamo prima, ovvero che non sempre il volume delle menzioni corrisponde alla capacità di quella keyword, e quindi del leader, di generare partecipazione da parte degli utenti che sono in rete. Nel nostro caso, in questa torta, sempre nel periodo temporale 14 luglio, 24 luglio, i leader, i contenuti dei leader, che all'interno hanno la parola e il cognome dei leader, che generano maggior partecipazione, sono sicuramente Conte, Meloni e Vede Renzi. Sì. Quindi, a dimostrazione che c'è questa tendenza. Adesso... Io non sono abituato a questi dati, quindi faccio una domanda. No, sono interessanti per questo, che sono un po' diversi dai soliti. Perché da quella torta lì sembrerebbe che Letta e Berlusconi hanno parlato con se stessi, in buona sostanza. Allora, Letta e Berlusconi hanno sicuramente, tra i leader che vediamo, non sono dei social leader in senso stretto, nel senso che poi se c'è un'altra schermata lo vediamo ancora meglio. No, eccolo, vediamo, Top Reactions. Top Reactions, qui lo vediamo. Eccolo qua. Oh, questa è, forse per chi non massica queste cose, è ancora più chiara, perché ci sono i simbolini dei vari social media. Qui cambiamo la piattaforma d'ascolto, la rete, non è più blog media, ma è fanpage karma. Cosa abbiamo fatto? Nelle schermate precedenti era tutta la rete, quindi social e anche i portali dell'informazione. In questo caso abbiamo invece monitorato i singoli canali, chiamiamolo così, i proprietari dei leader. Dal 14 al 24 luglio, il leader, comunque il politico che ha generato il maggior numero di reaction, reaction mettiamo insieme i like, le interazioni, le condivisioni, i commenti, è stato sicuramente Paragone, sulla sua pagina, ha ottenuto 1.300.000 reaction, poi c'è la Meloni e Salvini. Notiamo soltanto una cosa, che ancora una volta la piattaforma più importante dove c'è il parlato anche politico è Facebook, mentre subito dopo c'è ancora Salvini su Instagram, Meloni su Instagram, Conte su Facebook e troviamo stranamente calenda su Facebook. Perché dico stranamente? Perché Calenda è uno che lavora tantissimo su Twitter, fate conto che Calenda negli ultimi 10 giorni soltanto su Twitter ha pubblicato 200 contenuti. Mamma mia! Però ovviamente la piattaforma che genera più interazioni è la sua pagina Facebook. Quanto su questi risultati influisce l'essere seguiti da un'agenzia? Io so per certo che molte delle reazioni, una certa quantità delle reazioni sono falsi, cioè non sono esseri umani. Lo so per certo perché li ricevo, quindi lo vedo, quelli che hanno due followers e ti mandano a quel paese sono dei falsi. Però ci sono due componenti. Essere seguito sicuramente da un'agenzia, da uno staff e avere una strategia. Di questi sicuramente Meloni, sicuramente Calenda, sicuramente Salvini hanno una strategia. Faccio un esempio. Calenda pubblica, anzi Salvini pubblica un contenuto su qualsiasi piattaforma, Facebook, Instagram, Twitter, immediatamente quel link va su un canale Telegram dove ci sono 30.000 iscritti, 40.000 iscritti e gli utenti vengono invitati a ricondividere il contenuto. Allora, no no no, perché a me interessava cominciare così, perché poi tutto quello che abbiamo detto riguarda il merito di questa campagna elettorale che come abbiamo detto più volte è balneare. Adesso ad agosto ci sarà, ma è evidente che la campagna elettorale vera e propria sarà dall'inizio di settembre fino al 23, perché il 24 c'è il silenzio elettorale, così dovrebbe essere, e il 25 si vota. Però siccome la rete darà un contributo straordinario, abbiamo voluto cominciare questo lunedì in maniera un po' atipica mostrandovi questi dati. Allora, tra poco li commentiamo.